Mangiare carote fa abbronzare? No, però può aiutare la pelle a difendersi dalle scottature e può donarle un colorito più ambrato. Le carote contengono infatti beta carotene, che non ha alcuna relazione con l'abbronzatura, determinata esclusivamente dall'aumento di produzione di melanina da parte della nostra pelle. Il beta carotene invece si è dimostrato utile per proteggere la pelle dagli eritemi, diminuire la sensibilità ai raggi ultravioletti e accumulandosi nella cute dà luogo al caratteristico colore arancione della pelle. Ma ricordate che utilizzare una crema solare protettiva è il modo migliore per proteggere la nostra pelle e abbronzarsi in modo graduale e duraturo.